registrare tipo super di fretta per approfittare il baby che dorme, ce la prena. Hello, hello vanitose! Ed eccomi di nuovo qua per chi non mi conosce, io sono Brigida Ferracini e oggi vi ho portato una review su tre prodotti del brand Oppi Cosmetics. E se ti piace questa tipologia di video, ti invito ad iscriverti subito perché qui sul mio canale troverete tanti video di questo genere e non solo. I prodotti in questione di cui vi voglio parlare oggi sono questi. Il primo è un shampoo color protection specifici per capelli colorati e schiariti a base di collagene e acido ialluronico. Questi prodotti sono della linea Hair Studio Pro Pocket. E sul packaging c'è scritto colore protetto dai radicari liberi, collagene e acido ialluronico per capelli ricostruiti e protetti per un effetto a lunga durata. È un shampoo perlato, quindi non troppo sgrassante, che pulisce bene e lascia anche un buon profumo. Sulla protezione colore non vi posso parlare tantissimo, però sicuramente pulisce molto bene e lascia un ottimo profumo. E loro mi hanno mandato questa boccettina da 100 ml con un po' di 12 mesi. Per quanto riguarda la quantità, non se ne usa tantissimo prodotto. Secondo me non è un prodotto che va diluito perché non fa tantissima schiuma. Quindi vi consiglierei, nel caso acquistate, di utilizzarlo così com'è, senza diluirlo. Il prossimo è quello che è diventato l'amore della mia vita, che è questa maschera, sempre dello stesso brand, stessa linea. Sul packaging c'è scritto, trattamento intensivo, illuminante, biondo e dorato. E che dorato! E che biondo! E soprattutto, che idratazione! Ragazze, prima vi leggo cosa c'è scritto. La sua formulazione esclusiva è arricchita con micropigmenti, cheratina vegetale, collageno, acido ialuronico ed elastina. Agisce in profondità, rigenerando la struttura del cappello e intensificando la brillantezza del colore. Non avete idea di cosa può fare questa maschera ai vostri capelli in questione di idratazione e elasticità. Il tempo di posa è da 3 a 10 minuti. Il colore che si ottiene non è tipo un colore visibile, super visibile, ma dà quel tocco, sai, giusto quel tocco di luminosità. È da tantissimo che non provavo un prodotto così, che li fa sciogliere. Mi sento estremamente idratati. Ha un ottimo potere districante. Tutti i punti positivi per questo prodotto. La colorazione, idratazione, quello che promette veramente, quello che c'è scritto qua, è quello che poi vado a riscontrare sui miei capelli. Capelli idratati, sani, brillanti, ricci elastici, quindi con molto movimento, leggeri, capelli leggeri, ragazze. E una cosa te la devo dire. Se ti sta piacendo questa review, lasciami un like qua sotto per capire, così te ne porterò altre review il prima possibile. E se non ti sei ancora iscritta, non dimenticarti di iscriverti per non perdere questi nuovi video. Questo è un prodotto che lo consiglio a tutte, perché è veramente fantastico. Esistono in tre colorazioni, io per adesso l'ho provato soltanto nel colore gold, però sono molto molto curiosa di provare anche gli altri colori. E finalmente parliamo dal leave-in, sempre stesso brand, stessa linea. Il leave-in si chiama Mineral Leave-in, siero senza risciacquo, mineralizzante e sigillante. Una figata! Il suo pH acido e i minerali funzionali biochilanti apportano vigore alla struttura del cappello, compattendo la cheratina, creando massima coesione tra i nutrienti, capelli protetti per un effetto lucente setoso, ultra setoso, ultra setoso, lo ripeto. Il primo che mi è arrivato è stato la maschera, quindi ho iniziato a provare prima la maschera e dopo mi è arrivato il shampoo e il leave-in. Quindi ho avuto prima l'opportunità di provare solo la maschera e dopo di che la maschera insieme al shampoo e il leave-in. L'effetto che dà questo leave-in sui capelli è una roba veramente fantastica. Lascia i capelli soffici, come cotone, come una nuvola, come chiude le squame in una maniera pazzesca. Veramente proprio quando tocco i capelli sento che la struttura del capello è bella liscia, che ha le squame belle chiuse, che sono elastici, idratati, sani. L'unica cosa è che sui miei capelli non riesco ad avere un styling completo solo con questo. Ho bisogno sempre di applicare qualcosa per tenere perché non ha un potere di tenuta del riccio. Perciò mi piace sempre applicare un po' di gel sulle punte per far sì con cui il mio styling duri ancora di più. E ve lo dico anche che quello che lascia non è un effetto momentaneo perché anche dopo 3-4 giorni i capelli sono ancora super super soffici, idratati, luminosi. Io vi parlo di me, ragazze. L'effetto che ho ottenuto con questi prodotti è un effetto da parrucchiere figo. Capitemi. Da parrucchiere figo, no? Quel parrucchiere che esce piangendo e noi dice... Sappiamo come va quel parrucchiere. Può sembrare anche un'esagerazione. Tocco i capelli. Dico, ma sono i miei capelli? Sono i miei... Perché i miei capelli sono sempre molto secchi, aspri e porosi. Per quanto mi riguarda sono prodotti estremamente promossi. ma promossissimi. Però in particolar modo vi voglio consigliare la maschera e il leave-in. Ve lo dico veramente in amicizia perché so quanto è difficile trovare i prodotti buoni che funzionino per i nostri capelli. Ci tengo a specificare anche che questi prodotti mi sono stati regalati dall'azienda alla quale ringrazio per avermi dato questa possibilità di provare questi prodotti meravigliosi e ovviamente questo è grazie anche a voi e al vostro supporto. Tra l'altro, questi prodotti già ve li avevo fatto vedere sul mio Instagram Stories e se non mi seguite ancora seguitemi, che hociola Brigida Ferracini perché lì vi mostro tutti questi prodotti un po' in anteprima e anche tanto altre ricettine fai da te. E fermiamoci qui. Seguitemi, che hociola Brigida Ferracini. Io spero che vi sia piaciuto questa review. Se vi è incuriosito questi prodotti o se li conoscevate già o se avete altri consigli di prodotti con queste caratteristiche fatemi sapere qua sotto nei commenti. E non dimenticare di dare un'occhiata sul loro sito. Vi lascerò qua sotto nell'info box in link. E per adesso vi lascio un bacione. Ciao! 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 Ciao!